Musica Ciao Pietro come stai? Si Che dici? Io stavo mangiato e poi la video in diretta l'ha dato in vino e mi ha dato un intervizio e le professioni hanno dato questa notizia e mi ha chiamato la RAI un giornalista dei Fatti Vos per la partita fatta da Serra non si è disponibile un martedì Si ma per andare a Roma dici? Si No 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 No